Un saluto affettuoso e paterno è quello che Papa Francesco ha rivolto in Aula Palosesto e dipendenti vaticani ricevuti per gli auguri di Natale. Un momento bello di famiglia, ha detto, suggellato dal dono che Dio fa ad ognuno di noi con la venuta di Gesù. Un momento di ringraziamento per il dono del lavoro, importantissimo per la persona e la famiglia, in una fase storica segnata dalla precarietà, dall'accettare i lavori non degni, pagati male, dannosi per la salute. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per avere lavoro e dobbiamo impegnarci ciascuno con la propria responsabilità a fare in modo che il lavoro sia degno, sia rispettoso della persona e della famiglia, sia giusto. E qui in Vaticano abbiamo un motivo in più per farlo. Abbiamo il Vangelo. E dobbiamo seguire le direttive della dottrina sociale della Chiesa. Qui in Vaticano io non voglio lavori che non siano su questa strada. Niente lavoro in nero, niente sui terfucci. Ricordando il Giubileo della Misericordia che si è appena concluso, il Papa ha sottolineato che la grazia dell'Anno Santo resta dentro di noi per fruttificare, sia in famiglia sia al lavoro. Il Natale ricorda quella grazia di Dio apparsa in Gesù per opera dello Spirito Santo che va sempre invocato per vivere in questo mondo, anche in questo piccolo mondo del Vaticano, con sobrietà, giustizia e pietà. Infine, con un pensiero rivolto ai bambini e agli anziani, Francesco ha espresso l'auspicio che i cuori siano sempre pieni di misericordia, pieni della grazia del Giubileo che Gesù viene a riaccendere in noi.